A voi, Alighetti G-Espress, continuità territoriale, arriva la deroga per Alghè, approvare e riguardare la questione dei hospitals, politica Maurizio Lepri, Alighè. 31 funzioni nuove nel comune di Alghè, lo liceo classico in mano participa alla manifestazione nazionale, libriamoci. Delta Cop, il tuo supermercato, sotto casa. Buongiorno a Alighetti G-Espress, l'appuntamento quotidiano con l'informazione del Gero Channel. Salute i miei amici della Catalunia. Sigla. Aire, lo ministro di Strasport, Graziano Del Rio, ha filmato la sproga della continuità territoriale per lo sauropozio dell'Alghè e Olbia. Lo decreto garantisce fin a giun 2018 lo scollegamento a Milano-Linate e Roma-Fumicino. L'Alghè aspera a una coldu ama a Bluair, sigarancara all'Italia, mentre a Olbia meridiana. A provare e riguardare la questione degli ospitali, a Eranconsel regionale sono stati 30 voti in favore e 20 contrari. Entra lo spunto della riforma, tambi lo presidio dell'Alghè. Io so che nel 2018 sigarà una Dea del primo livello. L'onorabra Maurizio Lupi è all'Alghè. Mentre siamo in diretta il coordinamento dei cittadini del nuovo centro di RETA, i consagliari comunali Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras stanno incontrando il coordinatore nazionale dell'Alternativa Popolare all'Hotel Carlos Quinti. Si appalla della situazione dell'aeroporto e del primo lotto di L'Alghè e Sassar e le agevolazioni fiscali già previste in mai, mai, mai attuare relativamente all'istituzione della zona franca in Saldegna. La collina dei film si è sfinalizzata al referendum per il riconoscimento della condizione di insularità della Saldegna alla quale hanno aderito tanti sindaci saldi. Va avanti nel comodale dell'Alghè lo prato di rafforzamento della pranta organica dell'ente. La riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa si completerà con 31 nuove figure di integrare nel settore più diversi previsti di 8 contratti di subamministrazione e 13 attenzioni determinate nelle sguaduatorie per i pubblici concorsi. Ara avvio alla regia il legutone mandrieta E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance Farinelli Fresco Market Il liceo classico in mano della Ghe partecipa a qualsiasi edizione della manifestazione nazionale Libriamoci ma io lì per tu L'appuntamento è spesso a me alla squadra e miglia di Rattalda a Prasso Sulis Nell'ambito della manifestazione si farà inaugurare la mostra di Andrea Cocco Prenchi la letra e vaci oltre A conclusione dell'evento un concerto a cura del gruppo musical del liceo attuando a Pals ispirare alla letteratura Curiosità di voi Una rassetta dell'alimentazione tradizionale algerese Copazza di caragola ma fumata secca Los ingredienti Caragol, seba, al, junivelt, fumata secca, preba morisco, con selva Poma di terra, cora troncio, sal, ori di oriva Per la preparazione Rantau lo caragol e pusau un contenito tapato Sofrigiu la seba a fita L'al, lo preba morisco, con l'ori, la pomata secca, ben pistara Dopo di qualche minuto aggiungo la con selva L'orgionivelti trinciato La poma di terra a fita Lo cora troncio ha spurigato e tagliato a fita E con il caragol Tappavo tutta l'algo e acabavo la cottura A raccordare di una cuccaretta di sale Nel corso della talda Transmitiremo a le due della talda Una speciale dell'alguè Ascara Picara A més la quarta puntata della segona serie Audaz Acorubelt Protagonista Antoni Marras Per qualsavol segnari o informazioni Preguntas Mous furiu contatar A la pagina de Facebook E del Alguero Channel Ara Las previsiones del temps Amos viura damas Mous furiu contatar E del Alguero Channel Mous furiu contatar Mous furiu contatar Mous furiu contatar